Iniziamo. È difficile di dire queste cose, invece è una realtà. Io fa tanto che penso. Fa tanto che penso, penso, penso. Mia madre mi dice, stai ferma, stai ferma, apri quel cosino qua. Stai ferma, stai ferma, stai fianchi di là, guarda, non c'è, non c'è. Ciao, ciao! Sono ancora qui nel mio canale, ragazzi. Buongiorno 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 Grazie. 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 Paolo, 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 vedi, vedi, vedi che faccio, vedi, sotto, io, basta non mollare, io vado in questo buco, un braccio è attaccato, Paolo, hai cambiato, hai stinta di gamba, hai poco, tu devi uscire, un po' molto più fuori, Adesso io sono molto più vicino, con questa gamba, va molto più dentro, si, però non devi spingere, qua ci sono sette di gamba, Sabe, vedi, sarà così, e poi, aspetta, io devo essere così, va, paolo, che, Adesso, vai indietro, la gamba deve andare indietro adesso prendo con queste gambe subito si, vedi? questo è il bravo no, ho capito si, però questo questo copre il bravo